Signore e signori direttamente da Ice White Shot Ciao, buonasera Da dove? Da dove? Da Bras... Sud Da sud del Brasile Paraná, esatto E' una ferrona brasiliana Esatto, ce l'abbiamo noi, si Ce l'abbiamo noi La prima... La prima meridionale brasiliana incredibile La Brú, la Brú, da dove vieni? Da dove vieni? Da qua, dell'Italia Da Verona, da Verona Incredibile, e sei qua a festeggiare il Carnevale al Convento di Leonardo? Bellissimo, esatto E' la tua prima volta? Alla seconda La prima volta è l'amica antica scorsa Ah, ecco perché Ma dimmi perché sei tornata al Convento, che cosa ti ha spinto? Mi è piaciuto tanto questo posto qua e poi si mangia da Dio Perfetto Si Si diverti qua Pieno di energia, pieno di gente, pieno di follia, vero? E le tue amiche folli, come si chiamano? Eh, c'è la Giulia, la Goway Sì C'è Alessio che è venuto C'è Alessio C'è Alessio Ciao Alessio Eccolo qua Fantastico Ci siamo tutti Ragazze, abbracciatevi un attimo Venite qua e facciamo un saluto Fatemi un saluto Fatemi un saluto Il gruppo delle amiche di Verona Con Brasile Sud Eccoli Ciao, ciao a tutti Vi aspettiamo qua al Convento di Lonato per festeggiare Ciao Ciao